Ciao a tutti, stasera faccio un video sugli acquisti che ho fatto da Modest4U che è un sito cinese di cancelleria e articoli insomma molto kawaii e altre cose allora, questo è il pacchettino che mi è arrivato, ovviamente di qua c'è l'indirizzo e questa era la busta che ho trovato dentro con gli articoli che ho comprato allora, io ho comprato poche cose, il sito è questo, eccolo qua, modest4u.com andate a vederlo, perché vendono un sacco di cose per la cancelleria, bento boxes e con 60 euro le spedizioni sono gratis, io ho speso 10 euro, spedizioni incluse perché c'è il rischio della dogana, quindi per evitare di pagare all'arrivo più di quello che ho comprato ho preferito, e anche per prova, ho preferito comprare proprio due cose, due allora, la prima cosa che ho comprato, che vi faccio vedere, sono questi sticker eccoli qui, con i gattini adesso c'è la luce che fa riflesso ecco qui questi qua, appunto, con i gattini, sono proprio carini e mi sembra che venivano 1,70 euro io ho preso tutti gli articoli in saldo, tra l'altro poi ho preso questi qua, e anche questi sono sticker sono 64 sticker, adesso c'è troppa luce, non si vede e dentro è fatto così, è fatto tipo libricino questi qua, appunto, sono i vari stickers che sono dentro e, praticamente, richiamano vedete, sono 64 pezzettini richiamano, appunto, a Parigi c'è la Torre Eiffel c'è la Torre Eiffel con la bandiera francese e anche questi venivano 1 euro e qualcosina poi, sempre sticker, ho preso questi e questi qui sono, praticamente, sembrano solo due sticker in realtà, se si alza, il gattino è fatto di molti fogli e sono dei segni a pagina lo stesso vale per i cupcake questi mi sembra che venivano tipo 1,80 euro insomma, questi non sono niente di che ora, insomma, sono carini anche questi ecco, la scritta è in tedesco, immagino e poi, cosa ho preso? ho preso un washi tape ecco qua questo qui, ovviamente, se arriva dalla Cina è di carta quindi, proprio un washi tape di quelli originali e non si vede, però, è fatto con le nuvoline è uno smalto orrendo è fatto con le nuvoline rosa carino questo 1,10 euro e poi, ho preso questo che non vedevo allora che arrivasse è praticamente uno stampino a forma di tortina con scritto sweets eccolo qua, io l'ho già usato, ovviamente questo è proprio ben fatto visto che è molto attaccato, molto bello questo qui è 1,25 euro loro poi fanno dei piccoli omaggini e dentro questa bustina qui io ho trovato un deco tape questo qui è proprio uno scotch con gli orsetti ecco qua proprio un video velocissimo per farvi vedere appunto questi pochi articoli andate a vedere sul sito ve lo faccio rivedere eccolo qua hanno varie cose il consiglio che io do non fate grandi acquisti perché appunto c'è il pericolo della dogana quindi è meglio pochi così poi la bustina arriva così a me è arrivata tramite raccomandata con il postino so che ad alcuni arriva anche con il corriere non ho capito bene perché però insomma questo è quanto bene grazie mille ci vediamo la prossima volta ciao